In Campania sono circa 300 i posti di lavoro a rischio per professionisti sanitari che operano nelle attività della riabilitazione. Questo potrà avere una pesante rigatuta sulla qualità dell'assistenza a persone particolarmente fragili a cui bisogna continuare a garantire il pieno diritto alla salute. Sulla questione sono intervenuti con una nota congiunta Paolo Esposito, Presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti di Napoli Avellino Benevento e Caserta e Teresa Rea, Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermeristiche di Napoli. Siamo seriamente preoccupati, scrivono la Re ed Esposito, per il futuro di 300 professionisti sanitari impegnati nelle attività di riabilitazione e per le inevitabili ripercursioni che un'eventuale perdita di posti di lavoro potrebbe ricadere sulla qualità dell'assistenza a persone particolarmente fragili.